Quando ero piccolo sentivo la mia nonna bisbiliare prima di dormire e questa cosa mi ha sempre incuriosito. Così ho iniziato a imitarla senza sapere cosa stesse dicendo e neanche il perché. Un giorno le ho chiesto ma cosa bisbili prima di dormire nonna? Lei mi ha risposto che stava dicendo delle pregniere perché credeva alla storia dell'angelo della morte e aveva paura che l'angelo passasse per prendere la sua anima durante la notte e per stare tranquilla diceva tutte le sue pregniere prima di addormentarsi. Fino ad adesso questa storia mi aveva sempre colpito ma non ero mai riusciuto a immaginarmi l'angelo della morte. Poi ho partecipato al progetto museo e comunità e sono arrivato al museo del Bargello quando ho visto il mercurio di Giambolonia ho trovato l'incastro perfetto per completare il passo di questa storia a cui era sempre mancato un pezzo. Su questa statua ho ritrovato tutto il racconto della mia nonna. Il mercurio messaggero di Dio pronto a spiccare il volo spinto da Zefiro ho visto l'angelo che come un soffio porta via l'anima dalla bocca. Le ali ai piedi che lo fanno volare e il dito che indica dove porterà questa anima. L'angelo della morte può solo accompagnare le anime verso Dio sarà lui a giudicarle sul suo bastone infatti c'è il paradiso e l'inferno le due ali ma anche i due serpenti. E come mi disse mia nonna un giorno anche lui non avrà più questo sguardo fiero perché arriverà su di lui il giudizio di Dio. Grazie. 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 Grazie.